Il tema della montagna e delle valanghe è sempre attualissimo, anche considerando gli accumuli notevoli di neve che in questa stagione invernale stanno caratterizzando le montagne. Ieri l'ultimo episodio a Monteocra, nell'Aquilano, ma il rischio valanghe è sempre purtroppo da tenere in considerazione. Con un esperto, il professor Gianluca Ferrini dell'Università dell'Aquila, docente di rischi naturali, pur alla luce purtroppo degli ultimi eventi sul velino abbiamo provato a dare un taglio scientifico per capire cosa è una valanga e quali sono i rischi. La valanga è un fenomeno che si realizza quando un ammasso di neve su un pendio inizia un movimento verso valle e appunto scivola con un movimento più o meno caotico verso le zone più basse. La possibilità di avere valanghe è funzione di tantissimi fattori, uno di questi è ovviamente la quantità di neve che è caduta, ma non solo questo. Anche lo sciatore della domenica sa che le nevi non sono tutte uguali, c'è la neve invernale più fredda, c'è la neve primaverile più pesante. Quindi le nevi sono diverse, poi i substrati su cui la neve poggia possono essere di prato, possono essere cespugli. Sono tante le cose che coincidono e che concorrono a fare una valanga. L'impatto è sempre notevole perché dobbiamo tenere presente che se leggiamo sui libri viene considerata che il peso della neve sono 100 kg al metro cubo. Quindi anche un piccolo scoscendimento di un fronte di 10 metri per 100 metri, di poche decine di me, sono tonnellate e tonnellate. Quindi diciamo che gli impatti sono importanti. Ci sono degli strumenti molto importanti oggi a disposizione grazie alla tecnologia. Il bollettino meteo monta ad esempio che indica il livello di pericolosità, l'ARVA che è l'apparecchio per la ricerca in balanga e sistemi per le comunicazioni dal momento che le reti dei telefoni in alta quota spesso non sono efficaci. Chi frequenta la montagna d'inverno, bene, e ovviamente si consiglia sempre di frequentarla in gruppo, ha sempre con sé degli strumenti che servono per l'autosoccorso. E questi sono appunto il famoso ARVA, cioè l'apparecchio di ricerca di travolti da balanga, che è un apparecchio trasmettitore e ricevitore che permette di localizzare il travolto nelle immediate successive minuti della balanga. Poi abbiamo la sonda e poi ovviamente la pala per movimentare la neve. Se uno ha necessità di chiamare i soccorsi si sta sempre più ampliando una rete di comunicazioni che si basano proprio sui semplici walkie-talkie, quelli che si possono comprare tranquillamente e che si possono di libera circolazione e di libero uso. L'Ateno dell'Aquila con il suo laboratorio in questi giorni sta supportando il lavoro dei soccorritori sul velino. Noi siamo sempre a disposizione se sono necessarie le nostre competenze territoriali ed altro. È una brutta storia che speriamo si concluda presto e bene.